Buongiorno e bentrovati. Buongiorno e bentrovati a questo ultimo appuntamento della settimana con Mattino 6, la nostra rassegna stampa che inizia subito dalle prime pagine dei quotidiani regionali. Andiamo sul messaggero, quella che vedete alle mie spalle, la prima dell'inserto Abruzzo. Tumori, 20 casi al giorno, è il titolo di apertura. L'agenzia sanitaria dice trend oncologico stabile, a sorpresa Pescara la città meno colpita, impossibile valutare l'effetto dei veleni di bussi. All'Aquila c'è un allarme melanomi e poi approfondiremo anche questo tema nel corso della seconda parte andando a vedere il servizio. Continuiamo con le notizie, a centropagina nella fotonotizia, il segnale in città Legnini, Grossi e Mammone, giustizia, i vertici all'Aquila. Per un giorno l'Aquila si è trasformata nella capitale della giustizia con le massime autorità delle etoghe. Sempre a centropagina, studente picchiato in classe, le maestre citate per danni, inchiesta della Corte dei Conti, rischiano di pagare 20.000 euro. La notizia arriva da Montesilvano, la lezione era stata seguita con attenzione e partecipazione dagli alunni, nulla faceva presagire che di lì a poco la pausa della ricreazione si sarebbe trasformata in un incubo per due insegnanti, con il rischio di dover risarcire il ministero della somma complessiva di 20.000 euro circa. La procura regionale della Corte dei Conti dell'Aquila ha affrontato questo caso singolare con l'infortunio di un bambino di 10 anni strattonato da alcuni compagni e fatto cadere a terra. Ancora gioca a nascondino botte a un 14enne, la loro colpa era quella di correre e giocare a nascondino per strada, ma tanto era bastato ad un uomo per picchiarlo. Continuiamo con il quotidiano Il Messaggero, andiamo a vedere di spalla l'istruzione donna, gli uomini se la cavano, questo è il focus sul report del Cresa, in tanti non studiano o cercano lavoro. E poi andiamo a vedere nel taglio basso, altra notizia che però arriva da Chieti, Megalò vuole crescere ancora. Megalò si allarga perché ha bisogno di adeguare gli spazi e garantire di nuovi al piano terra. Il centro commerciale è destinato ad ospitare altre attività per le quali sono in corso trattative. Per ora c'è una sola certezza, quello che dovrebbe essere realizzato sarà un insediamento no food, dunque non ci saranno attività che si occupano di ristorazione cibo. Nel taglio alto andiamo a vedere le altre notizie. L'addio, ultimo saluto a Bruno Pace, la città di Pescara si è fermata ieri per le esequie, poi in Serie C il Teramo a fermo, gara chiave per la salvezza. E poi torniamo a parlare del Pescara e della Serie B con la Salernitana, la verifica delle ambizioni per la squadra di Zeman. Poco entusiasmo, soltanto mille biglietti venduti, compresi quelli della campagna. Zeman gli dice, io credo ancora nei play-off, penso che ci manca qualche giocatore esperto. Queste le parole di Zeman. Adesso andiamo a vedere invece le prime pagine del quotidiano Il Centro. Partiamo dalla prima di Pescara. In apertura le suore vendono l'Istituto Storico, una scuola privata candidata all'acquisto della Domus Maria di Via Manzoni. Nel taglio alto, verso il voto del 4 marzo, elezioni e sondaggi, nomi dei favoriti per Camera e Senato. E poi il rapporto sanità. Ogni giorno in Abruzzo, 21 malati in più di tumore. Ancora il progetto Gran Sasso, pronti i lavori per mettere l'acqua al sicuro. Andiamo a vedere poi nelle cronache. Pescara arriva alla Salernitana. Zeman a Sebastiani. Anch'io voglio i play-off, così il tecnico alla vigilia di questa difficile gara interna. E poi Porta Nuova, addio Francesca Leuzzi, il commercio è in lutto. E in tema di ultimi saluti, il funerale dell'ex calciatore e allenatore Folla con Mossa. Per l'ultimo saluto a Bruno Pace, cattedrale gremita per l'addio all'ex calciatore ed allenatore. C'era anche una delegazione delle Bologna che giocherà con il lutto al braccio, così come oggi il Pescara. Torniamo nello spazio dedicato alla cronaca. A Città Sant'Angelo evade un cittadino su tre per le tasse comunali non pagate. Troviamo anche gli spettacoli di spalla. Festival di Sanremo, ultimo trionfa nella sfida dei giovani. Il vincitore della 68esima edizione del festival, che oggi vivrà la sua serata conclusiva. Il cantatore romano di 22 anni ha vinto con la canzone Il ballo delle incertezze. Nel taglio basso, il Buongiorno a Bruzzo di Giuliano Di Tanna. Se l'ora legale rischia di diventare illegale. Alcuni europarlamentari del nord, tra cui la finlandese Heidi Auntala, chiedono che venga abolita l'ora legale perché sostengono danneggia il fisico e la psiche delle persone. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere insieme la prima pagina di Chieti Lanciano Vasto. In apertura la cronaca ha trovata la donna dell'incidente. Chieti è indagata per omicidio stradale. Una foto dimostra che ha soccorso l'anziana. Il taglio alto è il medesimo che abbiamo visto in precedenza e dunque non lo rileggiamo. Andiamo adesso a vedere nelle cronache Lanciano manifesti antivaccini. I medici dicono rimuoveteli. Spunta anche in città un cartellone no vax, cioè a favore della libertà di non vaccinare i bambini. E poi a vasto PM sconfitto nel ricorso sulle ville sequestrate. Da Montedorisi in casa del pensionato le tracce dell'assassino. E ancora a centropagina invece troviamo lo sport con la Fed Cup al Palatricalle Italia-Spagna. Il grande tennis oggi a Chieti. Paolino Navarro apre alle 16 la Fed Cup al Palatricalle di Chieti tra Italia e Spagna. Proseguiamo con il quotidiano Il Centro. Andiamo a vedere anche la prima dell'edizione di Teramo. In apertura, falsa identità in 16 a giudizio. La procura di Teramo le accusa di una serie di truffe. Tra di loro c'è anche un avvocato. E proseguiamo nelle cronache. Allarme ambientale. Rogo di rifiuti al CIR su indagato un manager. Un passaggio obbligato dopo l'apertura del fascicolo sul recente doppio incendio di rifiuti accatastati al CIR su. Ma è nel reato ipotizzato dal PM che si delinea il contesto in cui si muove la nuova inchiesta sugli impianti di Grasciano. Il PM infatti ipotizza la gestione incontrollata dei rifiuti. E poi fra Teramo e La Vibrata. Spaccio di droga, pene per 11 anni. In un cantiere di Mosciano patteggia 16 mesi per la morte del padre. A centropagina troviamo il calcio di Serie C. Stasera a fermo il Teramo di Palladini cerca il primo acuto. I Biancorossi sprofondati in zona play-out dopo l'ultima sconfitta interna contro il Pordenone. Questa sera alle 20.30 cercano sul campo della Fermana la prima vittoria con il nuovo tecnico Ottavio Palladini in panchina. Dovrebbe essere in campo il nuovo acquisto Panico. Andiamo a vedere anche la prima pagina di L'Aquila-Vezzano sul Mona. Qui il titolo di apertura è questo. Il campus non sarà raso al suolo, pizzoli, così ha deciso la Corte d'Appello, salvo il complesso composto da 11 edifici. E poi nelle cronache ad Avezzano, Pineta, 500 alberi devono essere tagliati. Ancora sul Monese alla sbarra, omicidio calabrese, l'amico dal giudice. Sul Mona stroncata da un male, muore a 17 anni, il dolore degli amici. A centropagina l'Aquila, la visita alla ricostruzione, i vertici della giustizia tra i cantieri del centro storico. Andiamo a vedere adesso insieme la prima pagina della città, il quotidiano della provincia di Teramo. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Colloquio a Bangkok per Cavatassi. Il ministro degli esteri Alfano incontra l'omologo tailandese. Dal 2009 c'è la moratoria sulla pena di morte. A centropagine invece nella fotonotizia, Torre del Cerrano, area protetta ambientalisti davanti al TAR, ricorso contro i fanghi. Questa è la notizia che riguarda lo sversamento, l'ipotesi, il progetto di sversamento, dei fanghi di dragaggio del porto di Ortona in un'area che è contigua a quella dell'area marina protetta. E poi di spalla l'intervista a Giandonato Morra, onestà, Giandonato Morra grillone ante l'Itteram. E ancora la visita a Roseto, pronta la lista della spesa per D'Alfonso. Sotto la fotografia poca neve, tante polemiche. I prati, maggioranza e posizione, si accapigliano sugli impianti. Giulianova, tassa turistica, la spaccatura è insanabile. Ancora bastona i carabinieri, gli portano via il figlio e perde la testa. Si è arrestato un commerciante della Laga per il calcio e il teramo. Palladini chiede di usare la testa per rompere il digiuno in trasferta che dura da nove mesi. Lasciamo le prime pagine regionali. Adesso apriamo lo spazio dedicato al nazionale. Andiamo a vedere il Corriere della Sera. In prima battuta, morte di Pamela, ora i sospettati diventano cinque macerata. Minniti dice sì al corteo antifascista che si terrà nel primo pomeriggio. E poi le Corree, storico saluto tra la sorella di Kim e Moon. E allora il titolo è la stretta di mano olimpica. Questo disgelo nelle Olimpiadi Invernali tra le due Coree. Andiamo sulla Repubblica anche qui in apertura. Macerata in piazza Madivisi. Si allarga il caso dei rimborsi Movimento 5 Stelle. Città chiusa per la manifestazione ma è polemica. Grillo critica Casaleggio sulla piattaforma russo. Che vi ricordo è la piattaforma delle votazioni del Movimento 5 Stelle. Usata tra l'altro per le cosiddette parlamentarie. A centropagina, disgelo ai giochi della neve. Le due Coree si stringono la mano. Questa è la notizia appunto a seguito della cerimonia di inaugurazione dei giochi olimpici invernali in Corea. Proseguiamo con un'altra notizia che invece riguarda la scuola. A scuola sarà subito licenziato il professore che manda sms erotici agli studenti. Questo è contenuto nel nuovo contratto che vedremo. Porta con sé anche delle polemiche. Lo vedremo più avanti sulle altre prime pagine. Andiamo sulla stampa ora. I giochi del disgelo nella stretta di mano fra le due Coree sono iniziate con un gesto storico. Le Olimpiadi Invernali. La sorella di Kim invita il presidente Moon al nord ma il regime di Pyongyang oscura la cerimonia. E poi andiamo a Gelsenkirchen, specchio delle diseguaglianze nell'Unione Europea nella miniera perduta dove l'Europa soffre, scrive la stampa. Ancora il tema della manifestazione di Macerata. Città chiusa. Ora abbiamo paura. Serrande abbassate. Si fermano i bus per i cortei ma soprattutto per il timore di scontri. Proseguiamo con il manifesto. Anche qui c'è Macerata in primo piano. La piazza è oggi, scrive il manifesto su questa fotografia. Arci, Libera, Fiume ci saranno e tanti circoli dell'Ampi. La manifestazione antifascista di oggi a Macerata ha ricevuto adesioni da tutta Italia. Il prefetto dà il via libera e il viminale si arrende ma il sindaco chiude le scuole e la diocesi le chiese mentre Casa Pound esordisce alla camera. Andiamo avanti con il messaggero e qui cambiamo titolo ma non l'argomento. Pamela, il racconto dell'orrore. Macerata bloccati. Altri due nigeriani avrebbero compiuto lo scempio sul corpo della ragazza. Tensione per il corteo di oggi. Trovate mazze per gli scontri. Gentiloni. Non minimizzare gli atti criminali. A centropagina nella fotonotizia ritroviamo ancora le Olimpiadi. Il vicepresidente degli Stati Uniti snobba il Gala della Pace. La stretta di mano fra le due Coree. Il disgelo in scena ai giochi invernali. Altra notizia importante. Medici di famiglia. Il maxi esodo. Assistenza a rischio. Entro cinque anni andranno in pensione in 45 mila. Difficile rimpiazzarli. Il Lazio fra le regioni più esposte. Proseguiamo con il sole 24 ore. Il contratto della scuola in apertura del principale quotidiano economico e finanziario italiano. Il contratto della scuola. Il merito sfuma. Questo è il giudizio sul contratto. Distribuito a pioggia. Parte del plafond per i premi previsto dalla buona scuola. Al via un concorsone per stabilizzare altri 100 mila precari. Aumenti in busta tra gli 80 e 110 euro. Una tantum a marzo. Fino a 600 euro per gli arretrati. Andiamo a centropagina adesso. Treni high tech. Costruiti a Pistoia e Napoli. 33 super convogli per l'Inghilterra. E ancora le borse. 30 miliardi in fuga dai fondi. Anche ieri listini in caduta. Piazza Affari chiude la settimana con una perdita del 4,56%. Proseguiamo su avvenire. Il quotidiano cattolico in apertura. Complici di tratta. Il fatto. Un forte richiamo di Francesco sul fenomeno che nel mondo coinvolge 42 milioni di persone. Le proposte dal gruppo Santa Marta. Il Papa. Le nuove schiavitù diffuse anche tra noi. E una vergogna. Aiutiamo le vittime a rinascere. Questo richiamo del pontefice. A centropagina. Giochi di pace. Si comincia con il disgelo. Nord-sud. E ancora la scuola. Contratto dopo nove anni. Ma con polemica. Aumenti e nuove regole. Furlan. Dice. Si ridà la dignità ai lavoratori della scuola. Anna Maria Furlan. E il segretario generale della CISL. Proseguiamo con la lettura delle prime pagine nazionali. Andiamo sul tempo. Il quotidiano romano apre con le indagini su Pirozzi. Il sindaco di Amatrice accusato di omicidio colposo. Dichiarò agibile la palazzina poi crollata nel sisma. Il paese si spacca sulla buona fede di Sergio. E poi i nigeriani coprono il killer. Il verbale di Trani parla lo sparatore. Paura macerata per il corteo di oggi. Andiamo ancora su Libero. Italia spaccata in due. I ricchi non sono razzisti. I soli stranieri che frequentano sono i filippini al loro servizio. Gli abbienti ignorano i problemi creati dall'immigrazione. I poveri li subiscono. Gli antifascisti se ne fregano di miniti e sfilano contro la violenza. Poi minacciano di morte Salvini e invietano i gazebo alla Meloni. Questo è il titolo del quotidiano diretto da Vittorio Feltri. Andiamo invece su quello diretto da Maurizio Belpietro. L'indagine della Guardia di Finanza all'uomo del PD ai 40 milioni in nero della Copp Pro Migranti di Macerata. Altri nigeriani sotto torchio per il massacro di Pamela. La perizia rafforza l'ipotesi che sia stata martoriata da viva. Inchiesta del GUS, la onlus che ospitava Osegale, nasce dai rilievi della prefettura su flussi a nomini di immigrati. Il coordinatore dell'ente è responsabile Warfare dei DEM. Le fiamme gialle contestano l'evasione pure ad altre due organizzazioni non governative e denunciati i loro rappresentanti. Proseguiamo con il secolo d'Italia che chiude questa carrellata sui quotidiani di centrodestra. Il volto amichevole con la foto di Giorgia Meloni. E poi in primo piano in arrivo l'anti-inciucio dei, il centrodestra si è unito. E poi grosse coalizioni in Tilt e Schulz è la prima vittima per quanto riguarda gli esteri e la Germania. E poi gli antifascisti in piazza, ma prevalgono le divisioni sul corteo di Macerata. Passiamo adesso al mattino di Napoli. Andiamo a vedere il titolo di apertura. Il caso migranti scuote il paese. Macerata blindata per la marcia antirazzismo. Pamela un branco nella casa dell'orrore. Mattarella dice, odio etnico è un rischio gravissimo. Gentiloni, fascismo fuori dalla Costituzione. Servizi, l'allarme inascoltato. Questo è il titolo ancora sul caso di Macerata. Di spalla oggi la sfida contro la Lazio per il Napoli. Intanto un regalo alla Juve il crack di Goulam. Napoli non mollare. Questo è il titolo sul calcio di Serie A. Andiamo a centropagina. Zagaria vuole uccidersi. Telecamere nella cella. La denuncia dei legali. Reclusione troppo dura. Il boss da sei anni al 41 bis nel calcere di Milano Opera. Ora soffre di depressione. A centropagina il festival di Sanremo. Ultimo vince nella sezione giovani con il ballo delle incertezze. Baglioni Nannini, il duetto che incanta. Vedete la fotografia di uno dei momenti in cui i due artisti hanno ballato insieme sul palco di Sanremo. Continuiamo con il secolo XIX. Andiamo a vedere anche qui il titolo di apertura. Gentiloni, il fascismo non è giustificabile. Il premier nessuno minimizzi. Pamela si rafforza la pista dell'omicidio. Macerata chiusa per i cortei di oggi. I cittadini dicono abbiamo paura. Andiamo adesso sui quotidiani sportivi e nazionali. Questa è la gazzetta dello sport. Il titolo di apertura. La Juve sbanca Firenze per 2-0. Il colpo del Berna. Lex e Iguain in gol. Notte al primo posto. In attesa della partita del Napoli. Var rabbia viola. Oggi Napoli-Lazio. Lamo viola dopo oltre tre minuti toglie un rigore alla Fiorentina. Pioli dice non era fuorigioco. Bernardeschi segna, esulta e fa festa con Buffon. Sono 500 in bianco e nero tra Serie A e Serie B. E poi c'è l'infortunio di Goulam. Sarri che è guaio. Il dramma di Goulam operato ancora al ginocchio, alla rotula per la precisione. Andiamo a vedere poi l'altra notizia di giornata storica. La cerimonia giochi di pace. Due atlete, una per paese, hanno portato la fiaccola al bracere olimpico. Il presidente della Corea del Sud dà la mano alla sorella del dittatore Kim Jong-un. E poi andiamo a vedere le altre notizie. A Ferrara oggi alle 15 scende in campo il Milan. Milan su tre fronti contro la Spal via al ciclo di fuoco di cinque settimane. Atalanta-Crotone, Gasp sfida il passato e gioca per il record. E poi domani col Bologna e Cardi a rischio. L'Inter del riscatto fa scaldare Eder e assalto a Fofanà. Andiamo sul Corriere dello Sport. Anche qui in apertura c'è la Juventus, Signora e Veleni. La Juve vince e va in testa. Il VAR toglie un rigore alla Fiorentina. Pioli attacca, l'arbitro ha sbagliato il gol. Lex Bernardeschi e Higuain. Partita finita 2-0, ma con tanta sofferenza per la Juventus. Andiamo avanti nel taglio alto. Napoli che botta, il ginocchio di Goulam cede ancora fratturata la rotula. Stagione finita. Le 20.45 gli azzurri affrontano la Lazio al San Paolo per tornare al comando della classifica. Mentre una notizia gela i tifosi. Il difensore operato a novembre si è fatto male di nuovo nel taglio basso. Gli altri anticipi, eccoli qui. Milan a Ferrara. Gattuso vuole provare a volare. Rossoneri in campo alle 15. Zenga all'esame Atalanta alle 18. Chiudiamo con tutto sport. Il castigo di fede. Questo è il titolo su Bernardeschi che ha spaccato in due la partita ieri sera dando la vittoria alla Juventus. Nel taglio alto Toro. L'intervista a Berami, Mazzarri è il top. Il mediano dell'Udinese. Domani il rivale di Granata. Esalta il suo ex allenatore. Troviamo anche l'Olimpiadi, i giochi del disgelo. E' subito il momento della bella Wierer. Poi Napoli trappola Lazio. Mertens c'è. Goulam invece no perché si è fatto male. Nel taglio basso. Oggi la spalle per il Milan. Nell'Inter. Obiettivo Verdi. Asta Skriniar. Allarme. Icardi. Ci fermiamo per il break pubblicitario. Prima però andiamo a vedere le previsioni del tempo con gli esperti di Meteo 6. E poi torniamo con la seconda parte della rassegna. Eccoci di nuovo insieme per la seconda parte di Mattino 6. Torniamo alle notizie della nostra regione. Apriamo le pagine interne dei quotidiani abruzzesi. Sul messaggero nella pagina Abruzzo troviamo la politica, strategie nell'urna, i giovani e sognatori di 10 volte meglio. Non siamo degli ingenui, dicono, ma lavoriamo perché la gente torni ad avere speranze. I ragazzi non possono più dire non avrò mai figli o una pensione. Politica anche nelle pagine di primo piano del centro. Verso il voto del 4 marzo. Chi è in vantaggio? Elezioni e sondaggi. Ecco i nomi dei favoriti. I parlamentari abruzzesi da eleggere sono 14 alla Camera e 7 al Senato. La sfida diretta è tra centrodestra e Cinque Stelle con il PD che cerca di risalire nei sondaggi. Nel taglio basso i candidati della lista di Dusi si presentano. Dal lavoro all'energia, al turismo e al digitale. Tutti i punti del programma di 10 volte meglio. Continuiamo con la politica. Forza Italia in 700 per testa De Matteo e la sindaca di Nino convention a Montesilvano. Sospiri attacca Movimento 5 Stelle e PD. Sul palco anche Masci e in platea i sindaci, tra cui Umberto Di Primio. Nel taglio basso la richiesta a tutti i candidati e la FIAB si raccomanda per le bici. Gli amanti delle due ruote dicono ridurre del 20% il traffico di auto nelle città. Proseguiamo sul quotidiano Il Centro. Andiamo nella pagina Abruzzo dove troviamo gli studi per prevenire il cancro. Ogni giorno 21 nuovi casi di tumore. Quanto rileva il report dell'Agenzia Sanitaria regionale, nel 2016 si sono ammalate 7.824 persone. La sopravvivenza, fortunatamente, aggiungiamo noi, è alta. Andiamo a vedere anche il taglio basso. Gran Sasso pronto lo studio sulla sicurezza. L'Olli annuncia lavori per impermeabilizzare il sistema idrico, ma la montagna non sarà perforata. Tra poco andremo a vedere anche questa notizia con l'Olli. Per il momento restiamo invece ai tumori. I tumori obiettivo potenziare gli screening e presentati i risultati del quarto report regionale del registro dei tumori, dati in linea con le medie nazionali, scrive la città. Tumori e prevenzione, colon, retto, seno, polmone, prostata e vescica. Sono le neoplasie più diffuse. Allora possiamo andare a vedere il servizio che riguarda lo screening fatto sui dati dei tumori e poi anche il servizio che riguarda invece la messa in sicurezza dell'acqua del Gran Sasso. 7.824 è il numero dei nuovi casi di tumore registrati nel 2016 in Abruzzo. Il tumore colpisce in numero maggiore gli uomini, 4.204, rispetto alle donne, 3.620. Sono i numeri del registro regionale dei tumori contenuti nel volume i numeri del cancro in Italia nel 2017, realizzato dall'Associazione Italiana di Oncologia Medica, dall'Associazione Italiana Registri Tumori e dalla Fondazione IOM. Tra le neoplasie più frequenti ci sono quella del colon retto, del seno, del polmone, della prostata e della vescica. Nel complesso però il confronto con le altre regioni italiane dice che l'Abruzzo ha dati sostanzialmente in linea, ma l'importanza del registro consiste nel creare uno storico della progressione del cancro utile a studiare e a pianificare interventi necessari alla prevenzione delle patologie. Gli abruzzesi infatti sembrano ignorare l'importanza della prevenzione che permette di ridurre anche del 40% l'insorgenza della malattia. Il 35,8% degli abruzzesi è sedentario, il 34% in sovrappeso e il 10,9% è obeso, percentuali superiori rispetto alla media nazionale. I fumatori sono il 29,7% in Abruzzo rispetto al 26,4% del resto d'Italia. Allo stesso modo resta scarsa anche l'adesione ai programmi di screening, come quello per la mammella oppure per il collo dell'utero o anche per la ricerca del sangue occulto nelle feci per individuare in fase precoce il cancro del colon retto. Stavamo tra le regioni più basse qualche anno fa anche i tavoli ministeriali e oggi finalmente abbiamo dei valori che sono significativi e che possono essere ulteriormente migliorati. E poi anche grazie ai reportistiche, ai dati, al registro, abbiamo programmato, deliberato come giunta regionale su tutte le reti oncologiche. In Abruzzo il registro dei tumori è attivo da tre anni ed è curato dall'Agenzia Sanitaria regionale. Oggi sono state completate le procedure di raccolta dei dati essenziali per gli anni 2013-2016. L'Abruzzo ha messo in cantiere sul piano programmatorio la rete oncologica per il tumore della mammella perché vogliamo dare a tutte le donne la possibilità di appropriatezza efficacia nelle cure di equità dell'accesso e ha messo in cantiere anche la rete oncologica polmonare con una riorganizzazione anche a livello di attività ambulatoriali e di primo accesso per questa patologia. Dopo l'ultima sollecitazione dell'osservatorio per l'acqua del Gran Sasso a mettere in sicurezza i laboratori di fisica nucleare in cui sono stoccate migliaia di tonnellate di sostanze pericolose. Il vicepresidente della regione Abruzzo Giovanni Lolli risponde con una conferenza stampa organizzata questa mattina all'Aquila in cui attacca le passate amministrazioni regionali che, dice, hanno nascosto la polvere sotto il tappeto di un problema che c'è e deve essere risolto. E' inutile negarlo, il problema c'è, ha origini lontane, la colpa grave è stata delle diverse amministrazioni che si sono succedute, devo dire di vari colori politici, le quali per anni e anni questo problema lo hanno di fatto ignorato. E' un sistema che per come è stato costruito e per come negli anni poi è stato anche colpito, per esempio, dai terremoti è obiettivamente al rischio di possibili interferenze. E poi c'è un problema di adeguamento alle norme che nel frattempo si sono succedute. Tutto ciò non è stato fatto per anni, per anni colpevolmente si è così, diciamo, un po' provato a scopare la polvere sotto il tappeto. E per risolvere il problema la regione Abruzzo ha istituito un tavolo presieduto proprio da Lolli con gli altri addetti ai lavori. Il tavolo regionale ha deciso di avviare uno studio di tutela integrale delle acque per delimitare le aree di salvaguardia e mettere in campo le azioni necessarie alla tutela dell'acqua che bevono 700.000 cittadini quotidianamente. Per evitare ogni tipo di danno, prosegue Lolli, abbiamo firmato un protocollo d'intesa con l'autostrada e con i laboratori dove questi enti si sono impegnati a rispettare ulteriori norme, ancora più restrittive rispetto a quelle utilizzate fino ad ora. Proseguiamo, sempre sulla città, colloquio a Bangkok sul caso Dennis Cavatassi, condannato a morte il ministro degli esteri Alfano ha incontrato l'omologo thailandese dal 2009, c'è una moratoria sulla pena capitale, il tortoretano è giudicato colpevole anche in appello come mandante dell'omicidio del socio in affari italiano a Phuket. Torniamo sul messaggero, andiamo ad aprire la pagina di Pescara verso il blocco delle auto inquinanti. Le prime misure del patto a sei tra i sindaci metropolitani, nasce l'Unione dei Comuni per le politiche di lotta allo smog. Pronta la bozza di convenzione tra gli obiettivi, il blocco automatico della circolazione in caso di emergenza, rete di bike sharing e piani condivisi di mobilità sostenibile al centro dell'intesa, Alessandrini commenta, e la nuova Pescara dell'aria pulita. Torniamo sul report dei tumori, tumori in calo ma su bussi e mistero, nel 2016 segno meno nel pescarese, allarme all'Aquila per i melanomi e per lo stomaco nel teramano. Proseguiamo con la lettura delle pagine di Pescara sul messaggero. I suoni dell'integrazione, anche i migranti studiano al dannunzio. House of Europe è il nome del progetto del conservatorio, la storia emblematica di un nigeriano che canta il suo viaggio. Poi picchiato in classe, maestre nel mirino, per un danno, appunto un infortunio di questo bimbo di 10 anni, che ha avuto un infortunio durante la ricreazione, la procura regionale della Corte dei Conti chiede 20 mila euro alle maestre. E poi, missione Cina per un ragazzo dell'Aterno, Davide Iacobone, lavora nella filiale di una casa vinicola. La preside da noi, l'alternanza scuola-lavoro è una cosa seria. Andiamo sulla pagina dell'area metropolitana. Due bandiere per l'addio a Bruno Pace, i colori di Pescara e Bologna, le squadre della vita sulla bara dell'ex calciatore cattedrale di San Cetteo, gremita per i funerali, sulla sua tomba scrivete fine del primo tempo, ci lascia un bel esempio, ha detto Don Francesco Santuccione nell'omelia della cerimonia religiosa. Restiamo sempre su questo argomento, andiamo sul quotidiano Il Centro, perché anche qui c'è un ampio spazio dedicato ai funerali dell'ex calciatore. Nelle pagine però di Sport, l'addio all'ex calciatore e allenatore, folle commozioni ai funerali di Pace, cattedrale di San Cetteo, gremita, Pescara e Bologna, presente una delegazione del club, giocheranno con il lutto al braccio e noi possiamo andare a vedere il servizio di Andrea Costantini sulle esequie di Bruno Pace. Cattedrale di San Cetteo stracolma di gente nel pomeriggio per porgere l'estremo saluto a Bruno Pace, scomparso la sera dello scorso 7 febbraio all'ospedale di Pescara, dove era ricoverato dallo scorso giorno di Natale, quando è iniziato quel lungo calvario che alla fine lo ha stroncato. Tanti personaggi del mondo dello sport presenti, in particolare ex giocatori e allenatori del Pescara, e tra questi Giovanni Galeone, il presidente Daniele Sebastiani. Presente anche una delegazione del Bologna Calcio, con gonfalone di stato a lutto e una divisa sulla bara. In terra felsinia Bruno Pace è stato una icona, con uno scudetto vinto e oltre 100 partite disputate, squadra che poi avrebbe anche allenato. Sulla bara anche sciarpe bianche azzurre, di quel Pescara con cui iniziò a giocare, quasi per caso, mettendo in evidenza quel talento che poi lo avrebbe portato fino alla Serie A. Da giocatore prima e poi da allenatore, Bruno Pace si era fatto amare e apprezzare ovunque per il suo carattere diretto, scansonato, guascone. Così Don Francesco Santuccione, che ha celebrato il rito funebre. Adesso Bruno sta su un punto di stagione, sta giocando allo stadio del cielo, questa affanopinionista, una battuta che ci dice di tutta la vostra presenza, che è così numerosa, le autorità, i giocatori, gli amici, i parenti, purtroppo l'ottimità. Perché lui dove ha girato ha lasciato una scia e ci dice che Bruno ha accolto la vita, era amante della vita. Da quando si era ritirato dalle scene calcistiche e era diventato un abitué dei salotti televisivi, spesso era stato ospite anche della nostra emittente. La sua presenza lasciava sempre il segno per l'arguzia e l'ironia nei ragionamenti, la schiettezza e una quantità impressionante di aneddoti che alla fine non potevano che strappare una risata al telespettatore. Anche per questo che Bruno ci mancherà tanto e in occasione della gara di campionato con la saernitana di questo sabato i calciatori del Pescara scenderanno in campo con il lutto al braccio. Ora andiamo a vedere l'apertura delle pagine di Pescara sul quotidiano Il Centro, anche qui l'emergenza inquinamento, Superstruttura per combattere lo smog, Pescara e cinque comuni vicini, condivideranno le politiche sul traffico e le iniziative per incidere sulla qualità dell'aria. Poi la Domus Marie e Suore pronte a vendere lasciano lo storico istituto di Via Manzoni, spunta un acquirente, una scuola privata di recupero, il prezzo 6 milioni. Ancora i parroci troppi poveri, fategli ripulire le strade. File sempre più lunghe di senza tetto davanti alla Chiesa dello Spirito Santo, appello dei sacerdoti, con un lavoro, ridiamo a loro, una ragione per vivere. Il centro fa un approfondimento sui quartieri della città di Pescara, l'area Movida, centro storico che degrado, muri imbrattati ovunque. De Collibus lancia un appello anche ai privati, servono controlli e telecamere per cercare di combattere appunto chi imbratta i beni pubblici. Proseguiamo. Circolo Canottieri, in arrivo 2 milioni per farlo risorgere. L'edificio è stato dichiarato di interesse storico-artistico, sarà la soprintendenza a progettare gli interventi. Sempre nelle pagine dell'area metropolitana, pista ciclabile, 3 milioni per il completamento. A Francavilla ha presentato lo studio di fattibilità per l'ultimo tratto che va dalla Lento a Ortona. Saranno realizzati un tracciato di oltre 4 chilometri e un ponte ciclopedonale. Domani intanto c'è la seconda sfilata per quanto riguarda la 63esima edizione del Carnevale d'Abruzzo. Nella pagina di Montesilvano, viabilità e sicurezza, chiude la lungo fiume e il traffico impazzisce. Transenne sulla rotatoria di via della Scafa e strada chiusa all'ora di punta. Cozzi dice che i lavori erano necessari una settimana di disagi. In via Togliatti ci sarà un nuovo rondò. Città Sant'Angelo, tasse locali. Un cittadino su tre non paga le imposte. Le comuni a rischio defaulti. Il bilancio segna o meno 3 milioni. Piano di rateizzazione per la Tare e 660 ingiunzioni per ICI e IMU. Andiamo a vedere ancora nella pagina dell'Alta Val Pescara. Bussi ricorda Lola. Morì per salvare la vita di noi alunni. Negrini aveva 9 anni quando ci fu la fuga di cloro alla Montecatini. Non si respirava. Racconta fece la spola per portarci fuori. Oggi ci sarà una cerimonia per ricordare la maestra. E poi Loreto a Prutino. Riaperta la strada per Pianella. Il tratto cartiera della provinciale interrotto da una frana un anno fa. Possiamo andare a vedere anche questo servizio di Vestina News. Ripristinata oggi la viabilità sulla SP20 che collega Pianella a Loreto a Prutino tramite la località contrada cartiera. La viabilità è potuta ripartire grazie alla collaborazione che c'è stata tra il sindaco di Pianella e il presidente della provincia di Marco. Il tempo trascorso sicuramente è un dato eccessivo rispetto a quella che era l'intervento da compiere. Il fatto comunque oggi arrivare a questa sia pur parziale riapertura ci consente di iniziare un percorso da qui in avanti di progettazione dell'intervento definitivo che a questo punto non potrà che essere di assoluta priorità. Il comune di Pianella ha fatto la sua parte facendosi carico della realizzazione e della gestione del sistema semaforico. Credo che le istituzioni comunque debbano avviarsi a questa giornata con un profilo piuttosto basso perché comunque i disagi sono stati tanti e dobbiamo soltanto rimboccarci le maniche perché da qui in avanti non dobbiamo più perdere un minuto di tempo per la riapertura definitiva. Parliamo di una strada fortemente offruita dalla collettività non solo di Pianella ma soprattutto di tutta quest'area e che mette insieme più ambiti territoriali che non possono fare a meno di questa arteria. Devo ammettere che l'anno scorso la struttura tecnica della provincia insieme a quella finanziaria hanno avuto anche la possibilità di recuperare alcune somme sparse nei vari capitoli e fare questo pronto intervento. Adesso abbiamo anche dei fondi ulteriori che sono 500 mila euro che il Presidente D'Alfonso ha assegnato a noi e con questi interverremo sia qui e sia su alcuni interventi della bonifica che risiede tra Cepagatti e Alanno. Stiamo già avviando le procedure quindi credo proprio che tra un mese e mezzo i lavori potrebbero già incominciare a esserci quelli ulteriori. Andiamo a vedere l'apertura della pagina di Chieti sul messaggero. Si parla di Megalod che chiede l'ampliamento. Il progetto vale 10 milioni di euro. Selvorno altri 4 mila metri quadrati, circa 100 nuovi posti di lavoro sono previsti. Boschi 10 Italia, dice, sono gli operatori che vogliono investire ancora a Chieti. La richiesta della società per allungare la galleria all'esame del settore urbanistica del comune. e ancora nel taglio basso la cronaca. In tasca a cocaina purissima per lo sballo del weekend è stato catturato, sequestrato un etto di droga ancora in pietra, muratore in cella e soldi nascosti sotto il materasso. Andiamo nella pagina della provincia. Declassate i terreni o non votiamo, i proprietari agricoli si uniscono in un comitato civico, troppe tasse alte, si discuta la variante al piano regolatore. Sulla carta le aree in questione risultano ancora edificabili, ma in realtà non lo sono, solo promesse dalla politica. Questa è la notizia che arriva da Vasto. Andiamo a vedere nel taglio basso, sempre da Vasto, Residence Plaza, assoluzione definitiva, Paglione, penso a coloro che hanno perso il lavoro, processo hard, risarcita la vittima. Da Lanciano invece, zuffa tra Pitbull e Maltese, la polizia denuncia i padroni. Proseguiamo sulle pagine di Chieti, andiamo sul centro, investimento mortale in centro, trovata la donna al volante della Golf, è indagata per omicidio stradale, ma non è vero che non ha prestato soccorso all'anziana, lo dimostra la foto che il giornale pubblica. L'avvocato Marchese per il difensore, l'investitrice non solo non è scappata, ma ha anche chiamato i soccorsi e seguito l'ambulanza in ospedale. Andiamo avanti, 118 in affanno, fratelli d'Italia, grave disservizio bloccare il trasporto tra gli ospedali, e poi il GUP chiede il tentato omicidio pestato con una mazza da baseball, sul botte in via Pescara, si aggrava la posizione di uno degli indagati. Nel taglio basso, niente bottiglie di vetro e lattine, alla Fed Cup il sindaco firma un'ordinanza per la sicurezza. Nella pagina della provincia, torna il Carnevale, controlli sui carri di vieto di alcol, ad Ortona domani e martedì, sfilate in centro per il Carnevale. Proseguiamo sul quotidiano Il Centro, andiamo ad aprire la pagina di Teramo, truffe in serie per anni, ha processo la banda delle false identità, rinviate a giudizio in 16, tra cui un avvocato e il PM, dice, fabbricavano documenti finti e usavano timbri contraffatti. Questa è l'apertura della pagina di Teramo. E poi Alfano si interessa della sorte di cavatassi, abbiamo già visto in precedenza l'incontro fra il ministro degli esteri e il suo omologo tailandese. Nel taglio basso, patteggia 16 mesi per la morte del padre, incidente sul lavoro a Mosciano, la vittima precipitò nel cantiere della ditta intestata al figlio. Nella pagina della provincia, Pineto, Ponte Zappacosta, sarà pronto entro Pasqua. Comune e provincia hanno chiesto all'impresa di accelerare i lavori, disagi per i residenti di Borgo Santa Maria a causa dell'interruzione della strada. Andiamo a vedere le altre notizie dal Teramano sulla città. Giandonato Morra, il grillone ante Ritteram, Fratelli d'Italia punta al 6-7% alle politiche, poi tante sorprese in serbo per le prossime comunali e regionali. Ancora ecco il piano per mettere l'acqua al sicuro, abbiamo già visto la conferenza stampa del vicepresidente della regione Lolli. E poi poca neve, tante polemiche ai prati, gli amministratori Bellisari e De Luca si accapigliano sull'apertura degli impianti. In provincia gli portano via il figlio e perde la testa. Commerciante di Valle Castellana arrestato dai carabinieri che gli contestano il provvedimento del giudice. L'aggressione dopo che il piccolo è stato allontanato, il padre ha afferrato un bastone ed ha minacciato i militari che sono stati costretti a bloccarlo e arrestarlo. Il figlio Letto fortunatamente non ha assistito alla scena ed ha raggiunto la casa materna come deciso dalla magistratura. Proseguiamo nella pagina di Rossetto Pineto a Tresilvi ricorso al TAR contro lo sversamento dei fanghi a MP ambientalisti contro la regione che ha dato il via libera ai materiali dragati dal porto di Ortona. Possiamo andare a vedere anche questo servizio. Il servizio gestione rifiuti della regione Abruzzo ha concesso ieri l'autorizzazione per lo sversamento in mare dei sedimenti derivanti dai lavori di dragaggio del porto di Ortona in una zona contigua all'area marina protetta Torre del Cerrano e al concidente sito di interesse comunitario. L'area marina protetta in primis e i comuni costieri interessati assieme alle associazioni ambientaliste sono fortemente contrari allo scarico nelle acque marine degli oltre 340.000 metri cubi di materiali provenienti dai fondali del porto ortonese. Il progetto presentato prevede che i fanghi siano gettati in un'area 5 miglia dalla costa di Montesilvano e città Sant'Angelo ad una distanza di 6 chilometri dal bordo dell'area marina protetta e a 2 chilometri e mezzo dalla zona contigua di protezione esterna. E' un attacco feroce alla biodiversità che il parco tenta di tutelare e questo è il commento di Pietro Palozzo membro del CDA dell'area marina protetta Torre del Cerrano. Un'opinione questa condivisa anche da WWF che ribadiscono la propria contrarietà e ritengono le prescrizioni imposte nella delibera regionale insufficienti a garantire la tutela del mare. Il progetto proseguono gli ambientalisti avrà risvolti negativi per il turismo giudizio condiviso anche dai sindaci di Pineto Città Sant'Angelo e Montesilvano che qualche mese fa avevano tenuto una conferenza stampa congiunta sull'argomento. Sebbene Arta abbia garantito la caratterizzazione dei fanghi e che quelli eventualmente sversati all'interno dell'area individuata non siano inquinati WWF e Legambiente in una nota parlano di una scelta sbagliata effettuata senza l'obbligatoria procedura di valutazione di incidenza ambientale. Il sito indicato per i fanghi ortonesi nel 2011 ha già ospitato i materiali dragati questa volta dal porto di Pescara ma in quantità nettamente inferiori circa 72.000 metri cubi. Allora sottolineano gli ambientalisti non era stato ancora istituito il SIC e non esistevano quindi le misure di tutela oggi in vigore a cominciare proprio dalla vinca. Andiamo a vedere anche la pagina di Teramo sul messaggero strade senza marciapiedi e poco illuminate di notte i casi sono quelli di via Bovio e via Conte-Contin a Teramo l'ex consigliere Pomanti e i nuovi faretti hanno peggiorato la visibilità Raffaele Di Marcello presidente dell'ordine degli architetti commenta voto 4 per la situazione così come ora andiamo in provincia restyling il corso riaprirà il 15 marzo l'annuncio da parte del sindaco di Giulianova dopo l'incontro con la ditta che ha aumentato il numero degli operai e lavorerà anche di sabato intanto Mastromauro minaccia di querelare il commerciante Paolo Cappelli che lo ha accusato di averlo minacciato e strattonato proseguiamo con la lettura del messaggero andiamo ad aprire la pagina dell'Aquila Legnini Grossi e Mammone di vertici della giustizia arrivano in città i massimi giuristi viventi hanno voluto rendersi conto della rinascita del centro vediamo una realtà che risorge e questo è un vanto di tutto il paese il vicepresidente del consiglio superiore della magistratura il presidente della corte costituzionale e il presidente della corte di cassazione tra scavi e cantieri della città che sta rinascendo proseguiamo con la pagina di Avezzano e Sulmona Anatrazzoppa e battaglia legale siamo ad Avezzano il consiglio di stato rinvia ancora 20 giorni d'attesa per la sentenza sulla appunto cosiddetta Anatrazzoppa per decidere quale è la maggioranza in consiglio comunale uscita fuori dalle elezioni amministrative dello scorso anno l'avvocato Petrella dice no a problemi di costituzionalità e in città torna l'attenzione su alcuni problemi amministrativi su tutti lo spostamento della sede della polizia municipale andiamo a vedere adesso la pagina dell'Aquila sul quotidiano Il Centro eccola qui alloggi per universitari il campus di Pizzoli non sarà demolito la corte d'appello ha dichiarato inammissibile il ricorso della procura per abbattere il complesso formato da 11 edifici alloggi per gli universitari e poi Piscina revocata la gestione a verde acqua il tar accolto il ricorso di due associazioni il giudice ci vuole una gara per l'affidamento nel taglio basso passaggio negato tal costretto a chiudere Rocca di Mezzo la disavventura di un albergatore la protezione civile ci deve anche 150 mila euro racconta nella pagina di Sulmona Tribunale La Spezia omicidio Colabrese l'amico dal giudice rito abbreviato per il 24enne del Monaco accusato di aver ucciso il giovane Sulmonese e di averne occultato il cadavere prima udienza l'imputato comparirà davanti al gruppo il prossimo 27 di aprile muore a 17 anni una studentessa dell'ITC Giulia Fontana sconfitta da una grave malattia e poi nel taglio basso ricarica auto elettriche dentro un albergo inaugurazione con regione e comune sempre a Sulmona e poi passeggiata per la ricostruzione all'Aquila ai vertici della giustizia tra i cantieri del centro abbiamo già visto in precedenza andiamo sulle pagine che riguardano lo sport restiamo sul quotidiano il centro Pescara Salernitana in primo piano oggi alle 15 il Delfino cerca il riscatto dopo due K.O. di fila l'allenatore dice quando prendiamo gol bisogna reagire non sedersi Zeman allora dimostriamo di essere da playoff il Boemo crederci non basta siamo una buona squadra con poca esperienza tra pochissimo andremo ad ascoltare Zeman intanto completiamo la lettura in attacco torna Mancuso Macin insidia Brugman l'ex Samb gioca a sinistra del tridente con Pettinari al centro Yamga a destra Zeman avvisa il capitano era imprescindibile ma ora devo pensare alla squadra andiamo a vedere anche l'apertura dello sport sul messaggero perché si parla chiaramente del Pescara e allora il titolo Pescara esame per le ambizioni oggi all'Adriatico c'è la Salernitana gara a spartiacque per l'obiettivo playoff Zeman c'è la volontà di tutti di conquistarli finora c'è mancata continuità Brugman c'è intanto con l'Antuono non teme il boemo maestro della mia generazione scusate teme il boemo maestro della mia generazione così il tecnico della Salernitana e allora come annunciato andiamo a sentire le parole di Zeman le ultime partite le hanno fatte a tre che è più a cinque che è a tre però ho fatto sto cinque tre due perché sono esterne abbastanza interessanti dipende loro sono abbastanza aggressivi a metà campo lasciano pochi spazi quindi poi il problema è di trovare quei spazi che ci lasciano come parte di Sebastiani condividi se questa squadra non conseguisse però per stare in un'altra pandemia vabbè veramente all'inizio diceva diverso però in questo momento è normale che la voglia di arrivare almeno a playoff c'è ci deve essere da parte sua da parte mia da parte della squadra come ho visto che la squadra ci crede anche se non basta crederci poi bisogna dimostrare però ci vogliamo inserire pensa che abbiamo fatto una buona squadra come penso io anche se continuo a dire che l'esperienza questa squadra ne ha poca perché pochi giocatori hanno giocato tanti campionati e quelli che hanno giocato tanti campionati purtroppo non sono disponibili e quindi i giovani per me hanno qualità lo dico dall'inizio però devono capire campionato e devono capire dove si vuole arrivare quindi anche per lei sarebbe un fallimento non centrale di lotta no certamente io vorrei centrare però poi se non ci si riesce ci saranno motivi su tanti campionati perché non segna da un po' a parte che non lo osserviamo bene secondo che lui pure non si non si fa trovare sempre nel posto giusto si sta lavorando per me in allenamento ci riesce purtroppo in partita non riusciamo a trovarlo perché non è in posizione giusta chiaramente vi ricordo l'appuntamento di questo pomeriggio con Diretta Stadio per seguire la partita fra Pescara e Salernitana come al solito Andrea Costantini in studio e Paolo Lorenzetti dallo Stadio Adriatico continuiamo con lo sport ma adesso parliamo di Serie C sulla città Teramo per vincere servirà usare la testa Palladini a caccia del successo in trasferta che al diavolo banca da nove mesi ancora dubbi sulla formazione in campo alle 20 e 30 Bifulco in vantaggio su calore per difendere i pali della porta Amadio Playmaker Ilari Mezzala con Gondò centravanti ultimo successo lontano dal Bonolis lo scorso 7 maggio addirittura e poi nel taglio basso l'avversario neopromossa imbottita di ex specie davanti ecco la fermana di destro andiamo a vedere anche il titolo del messaggero sul Teramo il Teramo affermo gioca per vincere mister Palladini analizza la situazione di classifica che impone il risveglio si gioca alle 20 e 30 recuperati Ilari e Caidi probabile l'ingresso di Bifulco in porta andiamo ad ascoltare le parole del tecnico del Teramo vincere aiuta a vincere come si dice quindi l'obiettivo è quello poi ci sono gli avversari e a volte non ci riesci però l'obiettivo è quello di fare la nostra partita e cercare di vincere questa partita perché ne abbiamo bisogno ma secondo me la cosa più importante in questo momento è la testa al di là della tattica di quello che può essere chi gioca la testa fa la differenza e noi dobbiamo lavorare su quello perché alla minima difficoltà ci cade tutto addosso i ragazzi si allenano bene quello che dobbiamo trovare assolutamente è l'equilibrio mentale e soprattutto dobbiamo essere convinti dei nostri mezzi cioè noi dobbiamo andare a gridire l'avversario non siamo una squadra che può aspettare secondo me perché se aspetti prima o poi il gol lo prendi sì Carlo Ilari mi può dare più struttura fisica mi può dare più centimetri Varas al di là che poi sabato ha avuto quell'occasione però è stato il più pericoloso perché in quasi tutte le azioni di attacco è stato quello che ci ha dato un po' di vivacità io sto cercando di lavorare soprattutto su noi stessi su quello che dobbiamo fare noi non sugli altri perché se pensiamo solo agli altri ci fossilizziamo su magari se gli faccio vedere le immagini di qualche giocatore che sta in una condizione potrei abbattere ancora di più il morale dei ragazzi quindi lavoriamo su noi stessi su quello che dobbiamo fare noi è la cosa più importante secondo me ma sicuramente la loro aggressività e la loro in questo momento è una squadra che sta andando anche abbastanza bene viene da una vittoria a un pareggio perché ha vinto a Mestre e ha pareggiato in casa col San D'Arcangelo Petruccio è un giocatore imprevedibile però ripeto noi dobbiamo avere rispetto degli avversari ma in questo momento secondo me la cosa più importante è dare fiducia a quello che stiamo facendo noi le partite vanno giocate e vanno vinte poi con la testa perché poi avete visto che anche a Ravenna una partita che avremmo meritato di vincere per una stupidaggine per poca esperienza e per poca furbizia l'abbiamo pareggiata quindi quello che bisogna usare è soprattutto la testa per vincere le partite bisogna usare la testa poi se siamo bravi a chiuderle è ancora meglio ma secondo me per vincere le partite soprattutto in questo campionato dove l'equilibrio di una gara perché magari un tempo gioca meglio una squadra un tempo gioca meglio un'altra devi essere bravo a capitalizzare quelle che sono le occasioni che ti crei sul centro c'è un'intervista al numero uno della Lega Pro toccato il fondo il calcio deve ripartire volevo Ranieri CT gravina a 360 gradi dopo aver sfiorato la presidenza della federazione gioco calcio sono stato coerente dice se serve sono pronto a ricandidarmi dopo il commissariamento restiamo sul quotidiano il centro anche qui il titolo sul Teramo Teramo Panicoce Palladini a caccia del primo acuto nella gara contro la fermana dell'ex Sansovini chiudiamo con il tennis la Fed Cup a Chieti Paolini e Navarro aprono Italia-Spagna alle 16 l'esordio al Pallatricale a seguire l'attesissima sfida Errani Arrabarrena biglietti a Ruba si va verso il pienone qui vedete anche il programma di oggi è davvero tutto per quanto riguarda la nostra rassegna stampa io vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina vi ricordo l'appuntamento con Mattino 6 lunedì alle ore 8 la nostra informazione alle 14 alle 19 e alle 23 oggi con il TG6 grazie ancora e buona giornata e buon weekend e buona giornata e buona giornata Grazie a tutti